No, faccio dicendo, no, 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 faccio dicendo, ormai ho deciso, faccio dicendo la cosa non ci stai. Ava pure, ava pure, ava pure, faccio dicendo, faccio dicendo. Signore, non c'è accetto, se ne rubava. E vai, e io? Oschino, mi penso, Oschino, non va in solvera delzio, penso pure a sta povera creatura. è proprio perchè non c'è questa teatura ce ne preoccupo tu lo sai che non vuol fare la guerra conosci a fare la guerra musulmane vuol fare la bruciata tu sai quanta cavalli di cavalli da la seman a dan sii il diventiero lo so i genitori i green vabbè lo sti per le poli eeeh eeeh voi facciate sono sempre le donne vabbè visto che siamo qui io li devo confessare ragazzi lo sapevo ma che confessare è una buona soluzione ostia io li dobbiamo scordi che conosco e chi sono questi questi farapunti che vi volete fare ma poi non lo dovete considerare dei papà voi li dovete considerare degli alleati dovete studiare insieme per fare quello che crede e perchè se lo sappiamo non si può uccidere certo che si può uccidere allora non ci vedete poi ti prendo e ti dica non lo faccio vabbè questi questi uno e uno uno e l'altro e 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